Prova di maturità del Milan che batte la Roma 2-1 con un po' di sofferenza finale per l'espulsione di Teo perché la Roma accorcia proprio nel recupero ma è una grandissima vittoria per gli uomini di Stefano Pioli che hanno travolto la Roma soprattutto nella prima frazione di gara con uno strepitoso Zlatan Ibrahimović. Un gol, un rigore procurato, tante azioni da rete, una annullata anche dal VAR ma è un Milan che vince, batte la Roma 2-1 in casa di José Mourinho che cade addirittura per la prima volta in stagione all'Olimpico quindi è un valore aggiunto questa vittoria per i rossoneri e il Milan aggancia 31 punti in classifica il Napoli e quindi domina ancora di più questa prima parte di stagione. Partita davvero bellissima soprattutto nella prima parte di gioco nei primi 45 minuti con il Milan che si porta subito in vantaggio con questa punizione di Ibra ma poi ci sono tante altre azioni che avvalorano la prestazione dei rossonieri. Un super leao, sottolineiamo anche soprattutto nel secondo tempo quando viene espulso Theo Hernandez per doppio giallo una prova immensa da parte di Simon Kier e anche di un ottimo Tata Rosano che è riuscito anche a fare qualche intervento davvero decisivo. Quindi un ottimo Milan, la nota negativa però sfortunatamente è il doppio giallo al terzino francese Theo Hernandez che purtroppo deve saltare il derby. Lo avevamo detto alla vigilia di questo match che le decisioni di Maresca avrebbero potuto avere un effetto negativo non solo sulla partita che si stava giocando quindi Roma-Milan ma anche su quella successiva perché un eventuale doppio giallo o un rosso avrebbe compromesso due gare piuttosto che una. E così purtroppo è stato. Però il Milan si gode il momento, si gode il primato in classifica, ha battuto un'altra big è sempre una squadra molto difficile da abbattere il Milan che in questa stagione non ha ancora perso è la decima vittoria e un pareggio fino ad ora in 11 partite ma elogiamo tanto Zlatan Ibrahimovic che ha fatto un'altra partita delle sue, un immenso Zlatan che raggiunge il terzo gol stagionale il quattrocentesimo tra tutti i campionati nazionali in cui ha giocato e ha partecipato e il centocinquantesimo gol in Serie A. Tutto questo con la rete alla Roma. Il Milan batte la Roma, travolge la Roma 2 a 1 e tiene la testa della classifica. Grazie. Grazie.